Letto matrimoniale con rete motorizzata e vano contenitore con movimento elettrico. Questo letto matrimoniale contenitore ha in dotazione una rete motorizzata indipendente con telecomandi wireless senza fili. Questa doga in legno ammortizzate grazie allo speciale giunto in SEBS a seconda la naturale postura della colonna vertebrale nelle posizioni assunte durante il riposo. Nella zona di riposo sono presenti doghe con curvatura ad ala di gabbiano. Questa forma unica bene si adatta per accogliere le parti sporgenti delle spalle nelle diverse posizioni assunte durante il riposo. Telaio in moltistrato di faggio sezione 60 x 30 mm. Silenziosità e robustezza. Assenza di leveraggi metallici quindi priva di ingombro nell'area sottostante la rete per dare il massimo spazio di utilizzo al vano contenitore. Questo letto matrimoniale con vano contenitore ha in dotazione un sistema di elevazione elettrico gestito da telecomando che, grazie a due pistoni elettrici, permette di alzare ed abbassare il vano per accedere al contenitore posizionato sotto alla rete. Potrete gestire lo spazio senza alcuno sforzo per alzare ma soprattutto abbassare la struttura della rete elettrica. Letto completamente sfoderabile con vano contenitore in melaminico. Facile da pulire in cui la polvere non ristagna. I fondi appoggiano lungo tutto il perimetro su listelli che fungono da guarnizioni antipolvere. Struttura rinforzata con 7 punti di appoggio. Fissa un appuntamento telefonico al numero verde gratuito 800 168 508 per conoscere le modalità di acquisto e l'offerta anche inclusa di materasso. Più relax. Salute. Benessere. Relax.